salve e benvenuti allo spazio bar di cucina con noi oggi vi presentiamo un cocktail inedito un abbiamo chiamato red fantasy dove uno degli ingredienti fondamentali e la fragola lo prepariamo con tre belle fragole mature alcuni pezzetti di limone 5 centilitri di rum bianco un paio di cucchiaini di zucchero bianco o anche di canna e completiamo il tutto con 6 centilitri di soda water andiamo alla preparazione prendiamo una ball ci mettiamo pezzetti di limone quindi delle fragole che abbiamo precedentemente tagliuzzate aggiungiamo dello zucchero e pestiamo il tutto con il madler fino a far uscire il succo del limone e a ridurre le fragole in una poltiglia quindi aggiungiamo del ghiaccio scaglie e versiamo sopra il rum rimestiamo il tutto quindi aggiungiamo la soda e per finire un paio di cannucce colorate ecco qui il nostro cocktail il segreto per avere un cocktail molto gustoso e trovare delle fragole mature al punto giusto nel caso in cui non avete delle fragole molto mature vi potete aiutare utilizzando anche un po di sciroppo di fragola per aumentare il gusto e l'essenza della fragola è un cocktail molto fresco adatto per la stagione primaverile nel periodo in cui le fragole appunto sono facilmente reperibili sul mercato e dallo spazio bar di Cucina con Noi è tutto arrivederci alla prossima ricetta ciao 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 ciao